Ciao a tutti e bentornati su Naturamania. Come sempre vi chiediamo di iscrivervi al canale, gratuito e ci date un grande supporto, e di attivare la campanella se volete ricevere le notifiche delle nuove pubblicazioni. Con il video di oggi iniziamo un nuovo format che abbiamo deciso di chiamare Naturamania in laboratorio, dove porteremo in ogni video un esperimento che faremo insieme. Ora Lucrezia vi elencherà l'occorrente. Ciao ragazzi, per fare questo esperimento innanzitutto serve una ciotola. Dopodiché serve un cucchiaio, 250 grammi di amido di mais, un qualsiasi tipo di balsamo, precisamente 120 ml, e un colorante, in questo caso noi l'abbiamo preso azzurro. Allora, il primo passaggio da fare è versare il balsamo all'interno della ciotola. Allora ragazzi, l'importante è che siccome lo slime contiene del colorante, tenetelo lontano dai vestiti e dai mobili perché potrebbe macchiarvi. Il terzo passaggio invece è quello di mescolare tutto. Ok, il prossimo passaggio, io ho prontamente aperto l'amido di mais, è quello di versare l'amido nel balsamo e nel colorante. Lucrezia piano piano lo amalgamerà tutto insieme. Ok ragazzi, questo è più o meno il risultato che dovreste ottenere. Pensate che nel 2017 in America è stato realizzato uno slime di ben 6 tonnellate. Comunque lasciate un like se vi è piaciuto e fateci sapere qui sotto nei commenti se vorreste un altro video esperimento con un altro tipo di slime. Vi lasciamo in descrizione tutti gli occorrenti che abbiamo utilizzato e il link del nostro profilo Instagram dove pubblichiamo tantissimi quiz e sondaggi. A presto!